I migliori della settimana sono l'ETF di Lixor, che investe sulle principali società quotate che operano nel settore della tecnologia, e l'ETF gestito da Lixor, esposto sui principali titoli tecnologici statunitensi. Registrano una performance negativa l'ETF gestito da Lixor, che punta sull'indice Hang Seng, rappresentativo del mercato azionario cinese, e l'ETF gestito da iShares, composto dalle maggiori società cinesi quotate sulla borsa di Hong Kong. Mostrano volumi elevati l'ETF emesso da Amundi, e l'ETF di Lixor, esposto sulle principali compagnie assicurative europee. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, esposto sui titoli italiani legati al regime fiscale dei piani d'investimento del risparmio, PIR. Forte interesse per l'ETF emesso da iShares, che investe sulle società appartenenti al settore della digitalizzazione. Invito all'acquisto per l'ETF gestito da Lixor, che punta sulle principali azioni quotate in Malaysia.